Lei è Mary Mion, portabandiera di un ricordo ancora vivo. Era il 28 aprile 1945 quando le truppe americane arrivarono a Vicenza. Oggi si celebra il 77esimo anniversario di quella data storica. I soldati statunitensi, stremati, affamati, presero dal davanzare della casa in cui abitava Mary la torta fatta per il suo compleanno. Compiva 13 anni e oggi a 90 anni racconta le immagini ancora impresse di quella notte di terrore. Sentivo tutta la notte canonate e non sapevo che avevo il comando americano a 100 metri. Io ho spiato per la porta di casa e è passato uno in bicicletta, ha visto che avevo paura, avevo 13 anni e ha detto sono americano e allora mi sono scoppiata a piangere. Dopo è stata una gioia per tutti. Oggi una restituzione simbolica durante la cerimonia per ricordare i soldati feriti e uccisi negli scontri che avvennero in quei giorni in corso Santi Felice Fortunato e Piazza Castello e il fondamentale contributo alla liberazione di Vicenza da parte degli uomini dell'88esima e 91esima divisione di fanteria. La cerimonia che si è svolta al Giardino Salvi, alla presenza delle autorità civili e militari, ha voluto ribadire il rapporto di vicinanza e partnership tra le due comunità, vicentina e americana, in un momento in cui la guerra è tornata ad essere attuale. Questa cerimonia ci ricorda quanto importante sia mantenere un'alleanza molto stretta con i nostri partner e soprattutto questa cerimonia ha voluto essere un regalo di compleanno per la signora Mary Mio. Credo che questo sentimento di riconoscenza in effetti non sia mai stato sopito nella comunità nazionale e in quella vicentina, poi insomma quella vicentina in modo particolare perché evidentemente è un sentimento che si è via via andato rinsaldando con questa presenza importante della comunità statunitense. Grazie a tutti.